Un'importante campagna di prevenzione dei tumori alla mammella ha preso il via in questi giorni in provincia di Pisa. Si tratta del progetto nazionale Salute in Comune, che mira a rendere capillare e gratuite le visite senologiche e dispone a bordo delle proprie unità mobili di ecografi e mammografi di ultima generazione. Il check-up gratuito è rivolto alle donne residenti o domiciliate nei comuni coinvolti, di età tra i 35 e i 49 anni. Diverse le donne che si sono presentate quest'oggi, sabato 16 marzo, all'unità mobile presente a Ponzacco, mentre domani, domenica 17, sarà presente a Castelfranco di Sotto. Per dare la possibilità alle donne di accedere gratuitamente a quelle che sono degli esami e dei controlli. Incontrano l'equip medica, fanno un'ecografia di controllo e qualora ci sia bisogno anche una mammografia direttamente qui in piazza immediatamente con una riflettazione immediata. La possibilità quindi di avere un'equip medica a disposizione che gli dia informazioni su come fare prevenzione, come tutelarsi e controllarsi anche a casa. C'è qualche dato che preoccupa? Assolutamente sì. Viene fatto questo proprio perché oggi il tumore alla mammella è una patologia che colpisce donne sempre più giovani e in maniera sempre più ingente. Parliamo di 50.000 casi all'anno, una donna su otto con una percentuale di mortalità purtroppo del 20%. Agire tempestivamente, quindi fare dei controlli anche soltanto uno o due anni prima di quello che prevede il Sistema Sanitario Nazionale può portare il tasso di mortalità dal 20% al 2%, quindi fare la differenza sulla vita di ognuna di noi. Quindi è assolutamente importante esserci oggi.